Musica Carissimo in una maniera allucinante E vi spiego subito il perché Faccio subito una premessa portando le mani avanti per il video Allora io non ho mai e dico mai Giocato su computer Io non ho veramente mai giocato su computer Questi 12 livelli sono l'unica cosa che io abbia mai fatto in tutta la mia vita su pc Questo perché in tutta la mia vita appunto non ho mai avuto un pc capace di reggere dei giochi Quindi non ho mai avuto l'occasione di cimentarmi con il pc gaming Ecco se così vogliamo chiamarlo Ecco quindi ho deciso appunto di comprare un nuovo pc Poi ve ne parlerò più avanti Sono un sacco di cose che devo dire un sacco di serie cose non vi spoiler nulla Ho un nuovo pc e la prima cosa che ho deciso di fare è scaricare Black Ops 3 Soltanto per farci dei video Perché si voleva assolutamente fare questa cosa Quindi ho scaricato Black Ops 3 L'ho comprato appunto da Steam E ho deciso appunto di riportare questo video ragazzi Un video che in teoria potrebbe essere l'inizio di una serie Vi spiego subito Allora io sono veramente una frana Questo perché non per altro ma perché qualunque essere umano Preso da una console e messo su un pc dopo 10 anni che gioca Con un controller chiaramente non è un fenomeno Voglio dire io non ho mai utilizzato tastiera e mouse Quindi è normalissimo Quindi pensavo di fare una serie in cui magari posso giocare Ogni settimana un video Facendo vedere appunto i miei miglioramenti Ecco cercano di migliorare e raggiungere un livello accettabile Quando per ora comunque siamo a livello 12 Quindi la mia esperienza è tutta in questo livello 12 Fatemi sapere voi se può interessarvi Io vi dico per i 12 livelli che ho fatto Posso dirvi che è veramente veramente figo giocare su PC Cioè io non avevo mai giocato e non sapevo A cosa andavo incontro e posso dirvi che è veramente bello Probabilmente è più bello anche di giocare sulla console Anzi sicuramente è così Perché questo ve lo dico subito Per semplice fatto che col mouse e tastiera Pur essendo scarso Ho una sensazione di controllo molto maggiore Sono molto più veloce E sono molto più tra virgolette preciso Cioè adesso non lo sono perché non so sparare Però sento il fatto che comunque è possibile essere più precisi Insomma è molto meglio ecco In più ho modificato la visuale e l'angolo di visuale L'ho messo bello grande Quindi in pratica vedo l'arma più piccola È una visione più completa E mi trovo molto meglio Insomma è un altro mondo Chiaramente tutti quelli che mi seguono pochissimi Tra tutti quelli che mi seguono pochissimi Hanno giocato nella loro vita su PC Quindi è una cosa nuova un po' per tutti E per questo insomma ho pensato che la cosa potrebbe interessarvi Ecco quindi io direi di fare una partita ragazzi Una semplice partita Vi faccio vedere quanto cazzo faccio schifo E fatemi sapere con un like e con un commento Insomma raggiungiamo un buon numero di like Se volete appunto la serie Ora cerco ragazzi un deathmatch a squadre E ci becchiamo tra un attimo Hola ragazzi siamo in una lobby E vi faccio vedere anche le mie statistiche Va così facciamo due risate Io ho iniziato a giocare oggi Su questo gioco finito a scaricarlo stamattina Ho ratio 1 e 28 Che vi giuro non so come è possibile Perché io ho fatto Non me lo sei nemmeno mai aspettato Ecco cioè alla fine Ho giocato un'ora ragazzi Vedete ho giocato un'ora e un minuto Questa è la mia esperienza su Black Ops 3 O comunque su PC Cioè in realtà no Perché comunque il PC ce l'ho da un paio di giorni Da due giorni Ho scaricato anche H1Z1 E qua potremmo aprire una parentesi Ma non lo farò Perché ve ne parlerò più avanti Quindi in fatto ho già fatto qualcosa Ma due giorni Un giorno e mezzo nemmeno Quindi ragazzi sono veramente Intanto qua scrivono in chat No perché possono scrivere in chat Questi sono francesi No sono usciti i francesi Va bene Si può scrivere in chat qua ragazzi È molto molto diverso Ripeto rispetto Oddio non ho le cuffie Rispetto a Alla console Veramente cambia tantissimo ragazzi Cioè se non ci avete mai giocato Come me prima di questi giorni qua Vi assicuro che Non avete idea di quanto cambia Cambia veramente tutto Comunque mi raccomando Ragazzi clemenza Cercate di essere Buoni Cioè non mi insultate Perché faccio cagare Cioè Diciamo che Ripeto Penso sia una cosa abbastanza normale Se non hai mai giocato su una console È difficile abituare Io tra l'altro Gioco sia su One Che su PS4 PC era l'unica cosa che mi mancava Tra l'altro la cosa con cui Trovo più difficoltà ragazzi È la tastiera Questa è la cosa che mi dà più difficoltà Premere i tasti Senza guardare Ecco No sapete cosa intendo dire No c'è tu Ok Mamma mia quanto sparo male ragazzi Sensibilità abbastanza alta Su PC si tiene così alta Mi hanno detto Ovviamente perché Tanto Può essere comunque preciso Il cambio arma lo si fa anche qui ragazzi Però con la rotellina del mouse Non so dove andare Cazzo sono i nemici Scusate Uno raga Oddio oddio che mira di merda Fammi ricaricare Cazzo vi giuro che è proprio un casino Non riesco a Coordinarmi con la tastiera Levati pezzo di merda Non riesco a coordinare Tastiera E E mouse Cioè Fare le cose in sincrono Perché con la tastiera Non sono proprio abituato Cioè col mouse bene o male sì Ok perché alla fine il mouse Oddio oddio Oh doppia Godo Ma questo è un nemico Cazzo cazzo No 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 sì Oddio Via 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 No Ok Ricarichiamo la pistola Ricarichiamo il WMP Ok ragazzi ci siamo Mamma mia che frana Aspetta un po' Non riesco a Coordinarmi con la tastiera Ragazzi vi giuro Non riesco ragazzi È assurdo Non l'ho mai fatto Cioè è una cosa proprio Per me impensabile Ok Potremmo appunto migliorare però Facciamo stasera ragazzi Miglioriamo Cerchiamo di Raggiungere un livello Accettabile Qua non c'è nessuno Ok facciamo il giro Andiamo qua Spero non si senta Troppo rumore Della tastiera Ma Muori Ok Purtroppo ragazzi Non ho molte Alternative Cioè Cicletti che non so Come si lanciano le granate Non ne ho mai tirato una Questo c'è la cosa Pensavo fosse Un ma vaffanculo Un clone Dicevo Non ho mai lanciato Una granata Sono lanciato le stordenti Ma non le granate Lo so che basterebbe Andarla a guardare Però Ogni volta che mi capita È Non guardo E poi me le dimentico Qui qua non c'è nessuno Avanziamo qua ragazzi Passiamo la cosa La corazzina Ok lui muore Ok ricarichiamo Ok ragazzi La vaffa non è proprio Delle migliori Muori Ok Ok perfetto Non stiamo nemmeno Giocando malissimo Cioè Oddio Nel senso A livello di punteggio Poi Arriva il treno Arriva il treno No c'è un cecchino là Almeno un altro VMP va Perché ho scambiato Il mio VMP Sono proprio stupido Ok Il cecchino è ancora lì Non lo vedo più C'è un pizzarotto Ok Mi sparano Ok abbiamo L'UAV ragazzi Ok Ne è uno dietro Mori Mori Let's go Ok ok Abbiamo l'Headstorm Ragazzi Io scappo Cioè vedete Cioè alla fine Col mouse Qualcosa riesco Anche a farla Il problema è Proprio Il Utilizzare La tastiera Che merda Di lancio Questo non è dato Dalla PC Questo è perché Sono proprio Ritardato Quando tiro male Ok Tiriamo una Stordentina là Switch al VMP Ragazzi Ok ok Sono utile in fondo Utile in fondo Fai Ho uno Non vedo nessuno Ok Switchiamo Ragazzi No sono morto Sono morto No Talon 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 La mission era qui Cioè proprio La tastiera È il mio incubo Peggiore ragazzi Veramente È proprio Fanculo Fanculo Sono proprio Per realtà Non cazzo Poteva anche Uccidermelo Quello Ma cosa stiamo facendo Ragazzi 15 2 What Ok Ok Stordente La vai Mi sono assordito Ma vaffanculo Andiamo Raga Quel tipo Mi sta ammazzando Continuamente Cazzo Vuole Dalla mia vita Siamo la corazza Entriamo qua Ma Sbaglio Sta laggando Un po' Raga Non so se Sono cali di frame O altre Ma Mori Via Ok Via 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 Oh Via Cazzo sono Ok Cazzo è finito Questo tipo C'abbiamo uno qua Sì L'ho ucciso Perfetto Vai Talon Abbiamo uno dietro Raga Let's go No Cazzo ragazzi Sono straconcentrato Non potete capire Non potete proprio capire Quanto sono concentrato Poi saliamo L'hanno shottato Let's go così Ovviamente ho fatto deathmatch Perché c'è Tralasciando quello che Magari il punteggio Che è anche carino Quello che sto facendo adesso C'è raga Bisogna essere obiettivi Vi faccio cagare Nel senso Cioè non è che Sono veramente Mi sento veramente Proprio Una persona Boh Però capisco Quelli che trovo Magari su PS4 No Che si muovono tutti strani Io dico Ma come cazzo Eh beh Ora capisco Mi metto nei loro panni Sono uno di loro Ok Vediamo la story Zio ne hai uno qua Zio mi dispiace Averti salvato Ci ho provato Ma cosa mi dice Che sto per morire Ma Questo io l'ho ferito Ha ucciso tutti raga Ma Io posso capire Ma gli altri Perché non l'hanno ucciso Cioè io l'ho anche ferito Stiamo vincendo comunque Fammi ricaricare Amore raga Oh ma non muore Sto qua Ma che cazzo è È immortale Cioè Passati i miei golpi Quanto stiamo facendo 24 6 Ok ok Cazzo la tastiera Veramente mi Ok ok Ragazzi voglio vincere Questa partita Eiter nemico Brutta situazione Ma vaffanculo Come cazzo ci si sdrai Ok Cioè voi pensate A che livello sono Che non sono nemmeno sdrai Cioè Devo guardare I tasti che premo Addirittura Cioè devo guardare la tastiera Quando premo i tasti Per abbassarmi raga Stiamo per vincere Godo Ok abbiamo la corazza Tirata male la cosa Ok Ok uno Ok ok Mori Non l'ho ucciso raga Oh 2 kg abbiamo vinto Mamma mia raga Questa è la partita migliore Che ho fatto In questi 13 livelli Senza dubbio Raga io spero Avete apprezzato Cioè Ripeto ancora una volta Spero sia chiaro Comunque i miei vari problemi A livello motorio Eccetera Però comunque Spero avete apprezzato lo stesso Vi invito a lasciare un bel like Fate quello che volete Supportate questo video Se volete la serie In cui appunto Provo a Come si può dire A migliorare Col tempo Cioè magari farò appunto In più della settimana Mostrandovi i miei miglioramenti E niente Supportate Lasciate un bel like E ci becchiamo Alla prossima Bella ragazza Ssshh 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 Ssshh